Massimo Cialente è stato il sindaco del terremoto del 2009 che si è ritrovato a gestire una comunità e una città piegate da danni e dolore. Ha avuto un rapporto privilegiato con Silvio Berlusconi all'epoca presidente del Consiglio, con il quale assieme a Bertolaso ha lavorato per mesi fianco a fianco. Un rapporto franco e positivo, dice Cialente dal punto di vista umano, anche se c'era divergenza su una scelta in particolare, quella del progetto case. Molto positivo, devo dire. Da un punto di vista umano è assolutamente positivo, un rapporto ottimo. Da un punto di vista delle scelte io ho avuto un contrasto iniziale con lui, che però capì immediatamente, che era quello del Newtown rispetto alle Newstown. Cioè l'idea di Berlusconi era quella di realizzare un'unica Aquila 2, cosa impensabile per le caratteristiche del Comune dell'Aquila. Noi siamo una federazione di castelli dal 200 dall'epoca della fondazione e quindi al di là di questo non ci sono stati problemi. La chiave di volta però per Cialente è stata soprattutto una, la famosa ordinanza segregata del 4 maggio 2009, che avrebbe trasferito molto uffici e reparti ospedalieri fuori città. C'è la famosa ordinanza segretata, che non riesco a farmi dare da nessuno, che Berlusconi aveva firmato la sera del 4 maggio, quindi un mese dopo, con la quale tutti gli uffici dell'Aquila venivano trasferiti insieme alle persone. Questo è il motivo per cui il progetto case a Newtown era per 7500 persone, cioè per quelli che dovevano rimanere per forza qua. Quella notte è successo quello che successe e lui, la cosa che gli riconosco, è che attraverso la mediazione eletta capirono che noi non stavamo giocando e lui cambiò. Cioè è stata annullata la gazzetta ufficiale, che nella storia dell'Unità d'Italia in poi non era mai successo. Quella notte Berlusconi fece una scelta che secondo me comportò anche un problema con il governo, perché allora nacque la città virtuale, pensate tutti i muspe, pensate gli uffici costruiti, le chiese transitorie, perché altrimenti la città sarebbe rimasta 10-15 mila abitanti, per una decina d'anni.